Per seguire lo sviluppo del territorio dal punto di vista agricolo e non solo. È l'obiettivo alla base del progetto di ampliamento all'Alto Casertano del comprensorio irriguo della Piana di Venafro. Al momento sulla carta c'è solo un protocollo d'intesa, stilato lo scorso giugno, tra ente consortile e i comuni aderenti Molisani e Campani. L'accordo mira ad intercettare i fondi del PNRR per il Sud. Permetterà anche agli agricoltori della provincia di Caserta di usufruire della rete idrica e dei servizi che l'ente di bonifica di Venafro garantisce ai consorziati. Ai nostri microfoni il presidente del consorzio Raffaele Cotugno. Noi abbiamo 400 ettari su capriati che potrebbero essere irrigati senza togliere altra acqua al Volturno. Noi con la stessa acqua riusciamo a irrigare il comprensorio di capriati al Volturno e il comprensorio di Ciorlato. Ritengo, è una mia idea però è stata sposata da un sacco di amministrazioni, un sacco di comuni, che sia un progetto grandioso, progetto che lo stesso direttore dell'Ambi ha espresso parere molto molto favorevole. Poi noi parliamo di territorio, noi dobbiamo creare sviluppo, almeno il consorzio deve creare sviluppo per il territorio. Di quanto verrebbe ampliato il territorio di pertinenza del consorzio di bonifica della piana di Venafro? L'ampliamento, come ti dicevo, va a cadere sul comune di Capriati a Volturno e di Ciorlato. Parliamo di circa 1.000-1.100 ettari, però non togliamo, come ho detto, risorsa al territorio dei 4-5 comuni molisani. Siamo nel territorio di Venafro, in località Pietrabianca. Alle mie spalle, a qualche metro di distanza, scorre il fiume Volturno. Proprio qui dovrebbe sorgere, secondo il progetto di cui stiamo parlando, un ponte per il passaggio di condutture idriche che serviranno a portare l'acqua dalla piana di Venafro ai territori siccitosi di Capriati. Questo progetto è stato già osteggiato da un comitato spontaneo che è sorto qualche settimana fa, un comitato che paventa rischi dal punto di vista dell'impatto ambientale. Su questo la risposta di Cotugno. Si parla di ponte perché noi è l'unica zona dove molto contigua a quel territorio. È stato domandato a dei professionisti di curare il progetto nel migliore dei modi, dando molta attenzione all'ambiente. Ma non c'è solo l'aspetto irriguo nel piano, nell'intento di dare nuovo impulso all'economia della vasta area tra le due regioni, prevista la realizzazione di piste ciclabili, strade e fino anche di un lago artificiale. Se questa idea diventerà una scheda approvata e da lì poi partirà il progetto, l'esecuzione dei lavori quanto tempo richiederà verosimilmente? L'esecuzione dei lavori poi ci sono i tempi tecnici dettati dal Ministero. Noi se il progetto verrà approvato, io spero che venga approvato, ci dovremmo adeguare quelle che sono le tempistiche per gestire la gara d'appalto e l'appalto.